Sei pronto ad aprire i tuoi sensi? Apriamo le nostre squisite preparazioni Le nostre spezie gustose I nostri antichi ingredienti Apriamo i nostri sapori esotici Mentre godi di appassionanti avventure Apriamo la nostra deliziosa natura Per te Ti invitiamo a visitare Cile E a percorrere i suoi indimenticabili paesaggi Mentre scopri i sapori unici Che apriranno i tuoi sensi Cile è Natura aperta E a percorrere i suoi indimenticabili paesaggi